Buongiorno a tutti, oggi potenzieremo un po' queste braccia per questo sono più dolenti quindi concentriamoci, posto dritto, addominale in tensione, piccola marcia tira fuori le braccia, compito di stessa, pugno bello di stretto e ruoto verso dietro, piccole rotazioni 5, 6, 7, cambio avanti in rotazione 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giù le spalle, di nuovo dietro cambio avanti 5, 6, 7, di nuovo dietro, respiro piccola variazione, cammino un po', giù e su, giù e su giù, su, giù pronti con il cambio, cambio, piede ruoto avanti 3, 4, 5, 6, 7, giù e su, giù non tolgo il piede ruoto avanti la volezza dominale è sempre in contrazione cambio 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 5, 6, 7, l'ultimo cambio adesso teniamo fuori le braccia ferme e continuo a camminare in giù schiena trista parete attimidale densa 8, 7, 6, 5, stiamo giù braccia ferme 8, 7, 6, pronti con il cambio 6, 7, apro le gambe piccola oscillazione in giù schiena trista mani alte retroversione del bacino schiena trista immobili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, schiaffetti in basso ha, 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 ha gambe sempre piegate oscillo ha, ha, ha ha 5, 6, 7, ancora 1 mani belle aperte e fermi 5, 6, 7, ancora 8, 7, schiaffetti in basso ha, 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 ha 5, 6, 7, 8 ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e un otto fermo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e un otto fermo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 1 ciao 2, 3, 4, 5, 6, 7 3, 4, 5, 6, 7, 8